è partita la spedizione val d'aosta come va regaz grazie per il regaz siamo tra l'altro nelle mani di una persona più affidabile che ci poteva capitare che paura che mi fai partiamo per questo primo trekking di questa tre giorni abbiamo con noi oggi l'onore di grande youtuber tra foglie e nuvole giusto dico bene partiamo qui dalla val nonti a tre chilometri da cogne e saliremo questo pendio per andare a raggiungere il rifugio sella scusa mi fai un primo piano sulla mia maglietta la maglia dice tutto pura panza stiamo muovendo i nostri primi passi ufficiali in val d'aosta grazie 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 e dopo circa due ore di salita pressoché in interrotta dove abbiamo svalicato non guardare circa 7-800 metri di dislivello eccoci nell'unico tratto di piano ma mentre io me lo stavo gustando Massimo mi fa notare la salita che ci aspetta per arrivare in cima non si arriva più panino col prosciutto cotto e tè di randaggio qui c'è poco c'è qualcosa che non va ragazzi dopo 950 metri di dislivello la partenza alle 3-3 quarti questa è la situazione all'interno del rifugio Sella che sbandamento ripartiamo dal rifugio Sella abbastanza velocemente dopo un ottimo pranzo io vabbè panino col tè perché là sta arrivando qualcosa che non ci piace e sentiamo le prime goccioline a a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti